Buongiorno a tutti, buongiorno Maria, buongiorno Elisa, il primo settembre è iniziato l'autunno meteorologico. Che brava, sei acculturata, mi fa piacere, la mia meteorina sta migliorando giorno dopo giorno. Sì, quindi volevo sapere questo settembre, almeno i primi dieci giorni, come sarà. Va bene, sì, i primi dieci giorni te le concedo. Allora, diciamo che è già iniziata una fase atlantica, le temperature soccarate di 4-5 gradi, diciamo che ovviamente la perturbazione che è arrivata ormai ha dato luogo a ampi spazi di sereno su gran parte del centro nord, è chiaro che se si sta il sole, ancora il sole scotta, quindi quelle che dicono ancora fa caldo, ma si mettessero all'ombra si accorgerebbero che le temperature... Sì, me ne hai spiegato prima. Ecco, punto, sarebbero sensato a infregare a 30 gradi. Ma andiamo con ordine, domani 4 di settembre, guarda chi si vede, l'anticicolone dell'Azzorre al centro nord, non si era mai visto, a settembre arriva l'anticicolone dell'Azzorre. Rovesce temporali sulla Calabria e sulla Sicilia, per effetto di quella perturbazione giunta due o tre giorni fa. Poi tra il 5 e l'8 inizia una lunga fase temporalesca, il 5 rovesce temporali ancora al sud, ma tra il 6 e l'8 rovesce temporali diffusi su tutta l'Italia, per effetto di un'altra perturbazione atlantica. Rovesce temporali che saranno forti sulle regioni di nord-est, quindi anche sulla Romagna, non andare in Romagna, anche i giorni, se no, se costretto a stare a casa con l'ombrello in giro, ma non è il caso. Ma tra il 9 e il 12, guarda mi spingo due giorni in più di quanto ho mai chiesto, guarda che sacrificio che faccio, tra il 9 e il 12 questa perturbazione lascia un vortice di bassa pressione sulle regioni in prossimità dell'Italia, il quale darà luogo quasi tutti i pomeriggi tra il 9 e il 12 a rovesce temporali diffusi sulle regioni centrosettenzionali, quindi ancora anche sulla Romagna, rovesce temporali che ancora saranno forti sulle regioni di nord-est, quindi ho dato 12 giorni. Almeno fino al 15. Ecco, vedi, se facevo fino al 15 mi chiedevo fino al 20, vabbè, tre giorni e te le regalo, dai, tre giorni e te le regalo. Grazie. Allora, tra il 13 e il 15, non ci crederete, arriva in grande spolvero l'anticicolone dell'Azorre, per tre giorni, forse anche di più, ripeto, non si era mai visto, beh, l'anticicolone dell'Azorre non porta grande e elevate temperature, porta bel tempo, insisterà al centro-nord, mentre sulla regione meridionale arriveranno ancora un po' di corrente fresca e da Balcani che porteranno ancora qualche rovescio e temporale nelle ore un po' meridiane. Voi che parli un po' anche delle temperature, beh, dicevo le temperature, tanto sono calate di 4-5 gradi ovunque, non leggete più i 33, 34 e 35 gradi, quindi non vi lamentate per favore, quindi temperature già calate, siamo quasi ovunque sotto i 30 gradi, ma attenzione tra il 6 e il 7 è un altro brusco calo di altri 4-5 gradi che resisterà almeno una decina di giorni, quindi scenderemo, diciamo, su un valore massimo di 23-27 gradi, quindi quasi fresco. Ti dispiace, lo so, ma del resto io faccio il meteorologo, non ti posso regalare nulla, capito? Sei stato bravo. Grazie, un caro saluto. Buona giornata.